La nomina dell'arcivescovo Giuseppe Petrocchi alla porpora cardinalizia entusiasma gli aquilani. Nei cinque anni in cui Monsignor Petrocchi ha guidato la comunità dei fedeli della diocesi dell'Aquila, si è creato un legame speciale tra la città e quello che si autodefinisce un parroco di montagna. È stato il pontefice durante il reggino a cieli di domenica 20 maggio in piazza San Pietro ad annunciare ai petrocchi tra i 14 nuovi cardinali che saranno nominati nel concistoro del 29 giugno. Ora, dicono gli aquilani, l'arcivescovo potrà portare fuori dai confini locali la storia della città e della sua comunità che cercano con fatica di rinascere dopo il terremoto del 2009. È meglio per noi. È importante per la città? Penso di sì. Vi ha fatto bene il Papa a fare questo passo? Certo. Penso proprio di sì, penso. Sono molto contenta e felice e spero che vada avanti così, non so. Farà bene anche la città? Spero di sì, sicuramente. È una cosa importante soprattutto perché è rappresentante ovviamente della Chiesa all'Aquila. Questo sicuramente, spero, porterà anche ad una visione diversa delle cose da parte soprattutto di chi insomma vede in questa rappresentanza, tra l'altro nominata direttamente, un fatto importante per questa città. Spero per la città che sia una buona notizia, nel senso che porterà un po' anche le notizie di quello che è l'Aquila in questo momento, una città che tende a ripartire anche se ancora ha un po' di problemi. Quindi spero che si faccia portavoce della nostra città. Grazie.